Benvenuti amici, cosa c'è di nuovo? La novità principale per noi è l'Iber stesso perché è un nuovo brand, bello fresco, nato in Italia, completamente made in Italy e questo brand porta due brevetti esclusivi, estremamente importanti per noi. Il primo è un nuovo materiale, il secondo è un nuovo modello di business. Il materiale innovativo di cui vi voglio parlare è un incollaggio con collanti aerospeziali tra una lastra di alluminio high tech e un acetato italiano. In questo modello lo vediamo molto bene perché i due colori sono estremamente diversi e dopodiché c'è il secondo brevetto all'interno di l'Iber che è molto più business, diciamo così. Sulla punta di ogni terminale, di ogni occhiale c'è un QR code piccolissimo che chiunque può leggere con uno smartphone o un semplice computer con telecamera che è sia un link al sito l'Iber sia il numero di serie dell'occhiale. Difatti quindi questo occhiale diventa un modello unico e con questa unicità noi possiamo tramite il nostro sito e attraverso gli ottici che sono i nostri migliori alleati chiaramente realizzare delle logiche di fidelizzazione del cliente finale verso l'ottica e chiaramente altre politiche commerciali, oltre che a dare assistenza naturalmente. Le mie aspettative ovviamente, visto che il nostro logo è un uccellino, è che spicchi il volo principalmente e poi che la casa di Lightbird, che io ho chiamato LightNest, al quale accedi con il QR code, sia la casa di più persone possibile. Grazie a tutti.